Voglio parlare di sogni più piacevoli, come il sogno del mare, come il sogno di volare. Il sogno di volare. Molti ricorderanno la famosa canzone di Giovannotti in cui diceva la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare. In quel caso il desiderio è evidente, cioè è il desiderio di lasciarsi andare, di andare a tutta, come quando voli. Anche nel sogno è un bel sogno, ma è un bel sogno perché finalmente ti liberi di qualcosa e puoi spiegare le ali, per così dire. Per oggi chiudo con un ultimo sogno che mi raccontava una persona in studio. Mi diceva che ha sognato che c'era qualcun altro nello studio mentre lei era con me. Qualcuno che ascoltava quello che lei mi raccontava e la cosa le dava molto fastidio. Comincia a parlarmi di questa persona, di quell'altra persona e alla fine lei stessa si accorge che ha parlato di moltissime persone. È stato facile capire che quelle persone erano in studio con noi, che non eravamo affatto nel segreto del silenzio del mio studio, ma che tutti erano lì, presenti nel suo pensiero. A questo poi si aggiunge che una persona in particolare tornava spesso nei suoi pensieri, tornava con rabbia, tornava con voglia di rivalsa verso questa persona. Ma sei tu che vuoi dirgli delle cose? Sei tu che vorresti dire a questa persona quanto ti ha fatto arrabbiare, quanto ti ha fatto soffrire, che dolore c'è nel pensare a lei, come non ti è piaciuto quel rapporto, ma hai paura di dirglielo. C'è un desiderio e c'è una paura. Spesso il sogno è questo. La parte dell'inconscio è la parte del desiderio. Il conflitto è tra desiderio e paura, ma il sogno ti sta indicando vai verso il desiderio. Raccontami tu i sogni, raccontami cosa ti è successo, ne proviamo a parlare insieme. Pensaci.